In Italia il sistema di raccolta di indumenti usati è rappresentato da una filiera molto vasta in cui si intrecciano numerosi attori. Da un lato la raccolta differenziata degli indumenti usati per capirci il conferimento nei contenitori stradali. Parliamo di rifiuti testili da abbigliamento usato che dopo una fase di selezione possono finire nel canale del riuso, riciclo o smaltimento. Secondo Italia del riciclo, in Italia il riutilizzo rappresenta circa il 68%, il riciclo il 29% mentre lo smaltimento il 3%. Anche a Campobasso è attivo questo servizio con la presenza di molti contenitori in varie zone della città. Dalla partenza del servizio nel febbraio del 2021 fino ad oggi a Campobasso sono state raccolte oltre 450 tonnellate di materiale con una media di 5 tonnellate a settimana e circa 250 all'anno. Buona parte del materiale raccolto viene avviato per il tramite del gestore del servizio alla commercializzazione sui circuiti dei mercati dell'usato mentre per ciò che non risulta riutilizzabile gli scarti di lavorazione vengono recuperati attraverso lavorazioni diverse. Seguiamo questo processo. I rifiuti urbani da indumenti usati raggiungono gli impianti dedicati dove una prima selezione definirà cosa verrà avviato a riuso quindi a una successiva commercializzazione sul mercato e cosa invece sarà destinato a attività di riciclo. La frazione scelta per il riuso è sottoposta ad una seconda fase di selezione dove gli operatori separano gli indumenti in base alla loro qualità con l'obiettivo di selezionare la frazione con maggior valore. Prima di finire sul mercato il prodotto viene ovviamente igienizzato per raggiungere i standard definiti per legge. Parallelamente il flusso di indumenti usati non adatti a riuso potrà trasformarsi in pezzame a uso industriale o per produzione di nuovo tessuto o isolante acustico e termico. Per la città di Campobasso sono numeri importanti che evidenziano un'ottima risposta secondo i principi dell'economia circolare.